L'estate pistoiese si colora di bianco-rosso grazie ad alcuni eventi organizzati dal Pistoia Basket in collaborazione con The Flex, uno dei partner più importanti della società, PSS Eventi e Martini Gioielli, due aziende labroniche recentemente avvicinatesi alla pallacanestro pistoiese. Una serie di eventi tutti al femminile, in primis un casting di hostess over 18 per comporre la squadra che sarà impegnata in campionato sugli spalti del Palacarrara e nei vari eventi del consorzio. Poi il concorso Miss Pistoia Basket 2000 per eleggere la bellezza bianco-rossa più sfavillante della stagione. Infine la selezione per il nascente team di cheerleader che animerà gli intervalli delle partite. Un'estate bianco-rossa, senz'altro oggi, siamo qui a The Flex che sarà il nostro partner per quelli che sono gli eventi estivi, siamo a presentare questo cartellone che essenzialmente spazierà nel mondo della bellezza e andrà nella direzione di coinvolgere i giovani pistoiesi che abbiano l'ambizione di far parte della squadra bianco-rossa fuori dal campo, per cui il casting per quanto riguarda le hostess, concorso di bellezza che avrà tre date più la finale durante la serata di presentazione della prima squadra e poi la costruzione di una squadra di cheerleaders che potranno colorare il pre-partito o comunque tutti i momenti in cui sarà possibile durante il campionato. Abbiamo accolto con grande piacere questa nuova iniziativa, peraltro colorata, fresca, estiva, molto dedicata alle donne, quindi per un'azienda che ha uno slogan definito in se l'indossi e ti innamori, sicuramente è un'iniziativa molto gradita, mi sembra anche nuova nello spirito. Sfruttando anche questo rinnovato entusiasmo abbiamo deciso di fare una Miss Pistoia Basket, cercare le hostess e io, da orafo e da colui che realizza tutti i gadget in oro in argento, realizzerò una tiara per la Miss, regalerò ad ogni vincitrice di tappa alcuni oggetti, alcune mie creazioni e quindi io collaborerò con la PSS 20. È una nuova avventura molto molto stimolante anche perché vengo da Livorno, ho vissuto i tempi belli di quando in Serie A1 c'erano più squadre toscane e oggi affacciarmi anch'io a fianco vostro nella serie che conta, quindi nella massima serie, è sicuramente molto molto stimolante. Sono veramente soddisfatto, sono soddisfatto io, sono soddisfatti tutti i membri del Cidiano, soprattutto il lavoro che sta facendo Maurizio, avrà forse a dirgli che è bravo e prima o poi bisognerà a dirgli che cosa è diversa, devo favorarsi molti la testa, no scherzo, ma abbiamo trovato un professionista che ci sta anche riaprendo a quello che forse noi anche come società avevamo perso, quindi il senso appartenenza sì da parte della città ma anche il senso appartenenza a parte di noi che siamo dentro e stiamo ricreando questa cultura. Siamo particolarmente fieri di avere qui il Presidente e avere accanto a me Antonio Caso che è un altro importante Presidente.